arriva secondo passaggio e si questo è il secondo passaggio sì sì questa gara organizzata in memoria di di Igor Mosca, Sebastian Tupiano e Daniele Sferrario e l'amico Claighetto è in arrivo alla gara ciclistica SC Lato Cappuno, chiudere le strade e fare spostare le auto del cuore le auto del cuore sono portate per il finale, dare buona gara al ciclista a metriamo a metriamo a metriamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.